Allora questa collaborazione è nata quando ci siamo conosciuti più o meno un anno e mezzo fa Due anni anche Due anni Durante un video di Baby Drip e un altro artista nigeriano Dopo queste riprese abbiamo scelto di prendere in considerazione di fare questa collaborazione Ci siamo trovati subito bene sia personalmente che artisticamente parlando Mi chiamo Baby Drip e sono un ragazzo mezzo giamaicano e mezzo nigeriano Faccio musica qua a Cagliari perché la prima volta che siamo venuti qua siamo trovati bene Abbiamo subito iniziato a fare musica Sono Andrea Moreno, in arte tolo 195, sono un ragazzo di Capoterra Faccio musica più o meno dall'età di 16 anni, non mi sono mai fermato, ho appena iniziato Io sono Youngspir, lavoro al tennis club di Cagliari, faccio barman Io faccio musica e mi piace molto, faccio musica da quando avevo, io e Tana da quando avevo 16 anni 16 anni? 16 anni Diciamo che abbiamo avuto l'occasione, tanto per iniziare, di fare qualcosa di super originale Mai visto prima in città, una collaborazione tra italiani e nigeriani Allora io potrei dire che, cioè personalmente questo pezzo è importante perché è una cosa molto diversa Dalle altre cose che fanno qua Direi che abbiamo, come ha detto prima il signor Bang, tolo Ci abbiamo superato i 10.000, cioè per noi è importante, è una cosa importante Spero vivamente di riuscire ad essere uno degli esponenti sardi che porta la musica in tutta Italia Oltre l'oceano, con il tempo giusto, però con le carte giuste Credendoci e dimostrando a tutti che manca solamente la Sardegna in questa scena nazionale Non vedo l'ora perché davvero abbiamo cucinato troppa roba, for real, cooking pasta Eh nulla, we coming out, check out bro